ciao a tutti oggi è domenica 11 giugno 2023 allora volevo farvi vedere un po come ho costruito l'ultimo l'ultimo filare di piccoli frutti l'ho fatto quest'inverno e volevo farvi vedere un po la struttura e come come fatto quanti fili ci sono eccetera allora il filare è lungo saranno una decina di metri forse una decina di metri circa sono stati utilizzati dei tubi da tre quarti per quanto riguarda le parti grosse che sono c'è un tubo grosso ogni metodo quindi da un tubo all'alto grosso c'è un metro vedete circa e a circa 40 centimetri 40 50 centimetri ce n'è uno piccolino quindi c'è uno due tre quattro cinque sei sette otto nove quindi a nove metri filare ci sono nuovi tubi grossi sono i tubi dall'acqua quelli zincati sono stati li ho tagliati e poi li ho forati col trapano ci avevo fatto un buco di quattro di cinque e ho fatto ho fatto tre tre fori allora uno a circa 25 centimetri da terra l'altro a 50 centimetri dal primo e l'ultimo che è questo è a 70 centimetri i tubi fuori terra sono sono 1 e 40 fuori terra poi adesso non mi ricordo se li ho messi giù 40 50 centimetri hanno stati circa due metri perché ho tagliato delle verghe da 6 e quindi adesso non ricordo ma dovrebbero essere due metri poi li ho con la mazza con la mazza grossa li ho piantati in terra ho fatto i fori come vi dicevo vedete uno due tre poi ho tagliato dei fili quelli zincati quelli zincati da vigna vedete questi qua classico filo da vigna zincato diametro sarà boh tre o quattro millimetri vedete tra tutte la lunghezza ok poi nei pali grossi ho messo le more vedete nei pali grossi nei pali piccoli ho messo i lamponi quindi ogni 50 centimetri ogni metro c'è una mora e ogni 50 e ogni metro c'è un lampone sfalsati di 50 quindi ogni 50 centimetri abbiamo una mora un lampone quindi abbiamo vedete abbiamo mora intestata lampone a 50 centimetri un'altra mora a 50 centimetri dal lampone un altro lampone li ho messi molto vicini perché a toglierli si fa sempre in tempo e poi preferisco avere tanti tanti piccoli frutti tanto le more crescono in altezza vedete queste sono more vedete tengono a crescere molto in altezza mentre il lampone vegeta più in basso dopo vi faccio vedere l'altro filare così vi rendete conto come come diventano poi negli anni ok poi e ho fatto anche questi questi queste strutturine di ferro vedete che sono dei piatti piegati mi sono piegati che ha una piccola pressetta ci ho fatto un foro qui un foro dall'altra parte vedete e poi due fori in 100 due fori distanziati 7 cm con un altro piattino vedete piegato e con dei bulloni quello che siano dell'otto belli tirati che non si muovono più vedete belli stabili non girano e servono praticamente per tenere per tenere i fili vedete sono 33 centimetri circa poi non saranno tutti uguali chiaramente li ho fatti io vedete uno e 32 l'altro e 33 e mezzo questo qua un po storto comunque la loro funzionalità non è nient'altro che tenere tenere i piccoli frutti fermi adesso adesso vi faccio vedere di porto vi faccio vedere un filare che c'ha già 45 anni sempre con le stesse le stesse strutture così capito un po come fatto il mio consiglio è se avete un ripuntatore di ripuntare il terreno e poi metterli altrimenti se avete un moto coltivatore di fare un bel scasso col moto coltivatore se avete l'altro rotativo ancora meglio e poi andate a mettere i piccoli frutti e se avete del cipato andate a mettere del cipato io non ho messo vedete tanto questo questo qua un po più vecchio vedete perché dopo chiaramente il cipato si decompone diventa compost e questi vanno 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 a bomba dopo io ho messo del cipato fino a qui che ne avevo poi come su della ramaglia e sto mucchiando man mano qua ho dei topi in ambos li lascerò fissi cioè fissi li lascerò moltiplicare per avere la semenza che se mi serve perché una parte me ne mangia sempre i topi le arvicole e poi così ne ho anche qua vedete che ce ne sono un po sulla fila e anche qua ok vedete questo qua è un filare di piccoli frutti di questi qua sono principalmente more è fatto con la stessa struttura vedete vedete le more dopo crescono questo qua ramo dell'anno vedete non si muove più lui vedete i lamponi invece sono molto più bassi questo è un lampone vedete uno li fa passare sotto così vedete i fili servono a questo e credo che valga la pena farli così la mia esperienza mi insegna vedete anche le more come sono belle stabili vedete poi quando le fate fate delle belle etichette con le varietà vedete le belle etichette vi ho fatte alluminio lo dico sempre incise col dremmel mettete le varietà dei lamponi e delle more io queste le ho moltiplicate tutte delle mie non sono piante da acquistate le ho moltiplicate con quello che avevo e alcune me le date alcune me le hanno regalate tipo ma regalato due lamponi rossana francesco e un amore navaccio perché io non l'avevo e l'ho messa la e ci ho messo la sua etichetta e vi faccio vedere un attimo lavoro finito dopo quattro cinque anni e questo vedete 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 come crescono crescono avete i vostri fili vedete questi qua e i lamponi cresce vedete non si muovono più non dovete più legare niente vedete poi chiaramente quando andate in potatura e andate a diradare però sono molto stabili sono anche molto buoni vedete qua c'è del giallo ho diverse varietà vedete questo il lavoro finito ho messo qua ho messo anche delle fragole dalle parti e anche qua c'è del cippato e questo questo impianto qua a 4 5 anni ho messo il goccia goccia anche la ho messo il goccia goccia mi sono dimenticato di farvelo vedere e ho messo vabbè qua ho messo una la gocciolante e i gocciolatori perché ne avevo trovati in discarica che buttavano via ma i gocciolatori sono molti sono ostruiti quindi ho messo questi qua anche questi quali trovate su aliexpress sono quelli regolabili questi qua non mi ricordo sono da 6 o da 8 litri sono i più grossi più quelli col foro più grande che si trovano ok strutturano meno e poi si strutturano si svitano hanno un gommino si puliscono e funzionano io consiglio sempre di utilizzare questa tipologia io la uso da anni questi io ho adesso ho preso questi qua su aliexpress prima prendevo questa tipologia qua che sono quasi uguali trovate anche questi vedete ne ho messo vedete anche qua e ho tutti tutto qua intorno o dei piccoli frutti vedete e tutti questi voglio una pompa io pompo a tre bar che anche troppo ma vanno forse anche un bar un bar e mezzo chiaramente più pompate forte più esce acqua chiaramente ok e nient'altro volevo solo farvi vedere un po questo filare come fatto perché per chi lo deve fare magari gli torna utile per prenderne spunto e di farlo simile va bene grazie grazie la visualizzazione se avete bisogno di informazione scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al gruppo nostro gruppo di telegram del progetto biodiversità condivisa che se avete qualcosa ne discutiamo insieme ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie